Elena Santarelli si è concessa qualche giorno al mare. Dopo le tante preoccupazioni degli ultimi mesi, un po' di relax sembra più che meritato. Ma le foto che la ritraggono in bikini stanno facendo preoccupare i suoi fan. In effetti la bella showgirl, che ha sempre vantato una forma fisica perfetta, oggi in spiaggia appare piuttosto dimagrita. Colpa dello stress e del difficile momento che la sua famiglia sta vivendo. Da quando il figlio è stato diagnosticato un tumore, la premurosa mamma sta dedicando la maggior parte del suo tempo a lui. in questa lotta dalla quale vuole uscire vincitrice. Il fisico evidentemente ne risente, ed è lei stessa che rispondendo da alcuni utenti allarmati dalla sua eccessiva magrezza rassicura «Io mangio bene, ma mangio, solo che il mio corpo non risponde ora». Dopo lo smarrimento iniziale, Elena ha iniziato ad affrontare con determinazione il lungo percorso verso la guarigione del piccolo Giacomo e giorno dopo giorno prova a sostituire l'ansia con l'ottimismo. Non ho la palla magica per dire che tutto finirà nel migliore dei modi senza piccoli intoppi di percorso. Ma, scrive ancora Elena, «Non posso intossicarmi il cervello di pensieri troppo negativi». Lo stress però ovviamente resta, terapie, controlli, ansia per le risonanze. E sebbene sia difficile, Elena sa che per andare avanti bisogna essere carichi di positività. «Se io riesco a dire, i problemi sono altri, ce la possono fare in tanti», confessa. «Se io riesco a dire, i problemi sono altri,